Ironico, scansionato e imprevedibile, ecco chi è Patrick Ray Pugliese. Classe 1977 nasce a Teheran in Iran il 5 dicembre. Lo abbiamo conosciuto nel 2004 nella quarta edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara D'Urso e vinta dalla spumeggiante Serena Garitta. Patrick si classifica secondo, diventando uno dei personaggi presi maggiormente di mira dalla trasmissione Mai Dire Grande Fratello del trio comico Jalapas Band in onda nello stesso anno. Si aggiudica inoltre l'esilarante imitazione di Fabio De Luigi. Dopo il GF viene chiamato da Antonio Ricci, entrando a far parte del TG satirico Striscia la Notizia, con uno spazio appositamente creato per lui e durante il quale ha il compito di consegnare il gongolo di platino, un'alternativa positiva al ben più noto Tapiro d'Oro portato da Valerio Staffelli. Dal 2015 svolge l'attività di imprenditore nel campo delle mountain bike. Adora il cinema di fantascienza, quello indipendente e quello comico demenziale, lo annoiano invece Gialli e Thriller, a My Jazz, Diana Krall, Frank Sinatra ed Elvis Presley. A gennaio 2020 torna nella casa più spiata d'Italia, accettando la proposta di Alfonso Signorini di partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello VIP. Al prossimo episodio